La magia sarà il filo conduttore della decima edizione della Notte Rosa, una sorta di capodanno dell'estate in programma venerdì 3 luglio lungo i 110 km di costa tra la riviera di Comacchio e Cattolica. Centinaia saranno gli eventi dal tramonto all'alba e da quest'anno per la prima volta verranno coinvolti anche i territori della provincia di Pesaro e Urbino. Infatti sulla proposta di estendere l'evento riminese anche nelle Marche l'iniziativa ha riscosso consensi sia da parte del sindaco di Pesaro Matteo Ricci sia da quello di Fano Massimo Seri che sta valutando sotto ogni punto di vista la possibilità di entrare a far parte di questo circuito dalle grandi potenzialità, detto il primo cittadino, strategico dal punto di vista promozionale ed economico per tutto il sistema produttivo locale. Ma d'altra parte sentiamo se i cittadini e gli esercenti del centro storico concordano con il sindaco. La Notte Rosa ha un'opportunità o un rischio? Non lo so, non lo so perché bisogna vedere che intenzioni ha il comune. Noi per quel giorno abbiamo la Notte dei Saldi come comitato, che è una manifestazione che questo è il quarto anno che facciamo e insomma un piccolo successo l'ha avuto. Bisogna vedere il comune cosa ha intenzione di fare, se investirci o no, se siamo all'interno del network Notte Rosa potrebbe anche essere un'opportunità, se invece siamo marginali assolutamente no. Può essere una buona occasione per voi? Sicuramente sì perché credo che appunto se la Notte Rosa è organizzata bene come Sanfare sicuramente in Romagna e quindi ci possono dare anche tutti gli spunti del caso, credo che questa per noi sia una grossissima opportunità da sfruttare, quindi cercare di collaborare come è logico che venga fatto per tutti, per riuscire a portare tanta gente anche da noi. Potrebbe essere secondo lei una bella occasione? Potrebbe essere una bella occasione, soprattutto per il centro, però secondo me c'è qualcosa che non va con le varie idee passate di chi adesso sta gestendo il comune. Anche il consigliere comunale di minoranza Stefano Aguzzi è stupito delle affermazioni del sindaco Massimo Seri, colui che quando Aguzzi era il governo della città giudicava negativamente la Notte Bianca. Pienamente d'accordo che si riproponga una bella iniziativa che noi abbiamo portato avanti per diversi anni, sembra di essere nel paese delle meraviglie perché il centro sionista ci ha sempre criticato per questa iniziativa e adesso la propone, comunque mi fa molto piacere. Un evento che funziona? L'economia potrebbe essere un evento che funziona se venisse fatto nel modo corretto, visto che qualche anno fa la Notte Bianca non ha portato niente di buono a quanto pare. Può essere un'occasione per cercare di far vivere questa città, almeno staremo qui senza andare sempre a Riccione e Romagna. Nel caso in cui dovessero fare la Notte Rosa qua a Fano parteciperete all'evento? Beh penso proprio di sì, speriamo che sia una bella serata e niente, ci siete tutti invitati.